Quanti libri di marketing leggi in un anno? Intanto la domanda è, dovrebbe essere, quanti libri leggi in un anno? Poi di quanti libri, quanti libri di marketing? Perché alcuni messaggi molto veloci. Basta leggere ogni anno, quindi negli anni, basta informarsi, leggere un po' di libri sul marketing e diventi un esperto. Molto più te che magari non sei del mestiere, magari non sei un professionista del marketing, inizi a formarti, ad informarti, non solo sul marketing, perché magari sei l'imprenditore e devi acculturarti in un sacco di altre aree, ma prenditi tempo per leggere un libro a trimestre sul marketing, quattro libri all'anno sul marketing, vedrai che diventi in poco tempo un vero e proprio esperto. E questo quindi è il consiglio che caldeggio, perché molte volte mi sento dire ma il marketing non è faccenda mia, e me lo sento dire dagli imprenditori, il marketing è faccenda tua, perché il marketing è uno di quei quattro pilastri che tengono in piedi il tavolo. Puoi dire, sono un imprenditore e di controllo di gestione non ne so nulla? Direi di no. Se non fai bene l'amministrazione, il controllo di gestione della tua azienda, non puoi dire, delego, abitato c'è il commercialista, bravo, delega, delega, è il commercialista, poi vedremo che cosa succede. Stessa roba con il marketing, non puoi dire, beh il marketing me lo fa l'agenzia, me lo fa il collaboratore, puoi delegare il marketing, ma quando lo conosci? E allora sai che cosa deleghi? Quindi per cortesia diamoci un po' di obiettivi di acculturamento sul marketing. Tu sai che basta leggere dieci pagine al giorno per leggere tremila pagine in un anno, che sono dieci o venti libri, dipende dal libro, quindi puoi diventare esperto in moltissime cose, il tempo c'è, lo si trova, diamo un attimino di infarinatura, di avere le basi, ovviamente partiamo del marketing strategico, poi passiamo alla conoscenza anche del marketing operativo, non serve essere lo smanettone dello strumento, però magari se ti piace Facebook, leggiti anche un libro per capire come funzionano le dinamiche legate al marketing su Facebook. L'importante è che tu non neghi la tua conoscenza in questo mondo. Se invece i libri leggi fammi sapere quanti e soprattutto dammi qualche spunto, dammi qualche feedback, commenta questo video.